Ehi a tu ormai, io sono Mazzatess e benvenuti in questo piccolo vlogghino Vlogghino per determinare un po' quello che sarà l'avventura multiplayer su Mindtest Me ne avete parlato in molti e come avrete sentito negli scorsi video di Mindtest Ho una mezza intenzione di iniziare qualche partitella diciamo con voi in multiplayer su un server pubblico E quindi niente, questo è un pochettino per organizzarci Metterò in questo video un sondaggio in alto a destra che quindi per voi sarà tipo qui Sì dovrebbe essere tipo da questa parte qua Vedete c'è tipo una I, se non avete mai visto i sondaggini dei nuovi, cioè i nuovi sondaggini che ci sono per Youtube È tipo una I che se cliccate sopra apre una banda in cui potete rispondere al sondaggio Dovrebbe essere tra l'altro cliccabile anche da smartphone, spero, mi auguro E in pratica ci permetterà di determinare un giorno della prossima settimana in cui potremo fare la live No live, cosa cavolo dico La, beh, sì insomma, in cui possiamo trovarci per giocare insieme Come orario indicativamente io do la sera e come giorni darò indicativamente dal lunedì al giovedì Perché sono i giorni in cui tendenzialmente posso E niente La mappa che propongo e anche in base ai suggerimenti che ci sono stati qualche video fa nei commenti È Liberty Land Map Che potete trovare abbastanza facilmente nella lista dei server L'ho scelto perché non è PvP e in più ha abbastanza slot perché ha 40 slot totali Quindi non dovrebbe esserci un problema di non trovare posto No, 50 slot totali, scusate E quindi non dovrebbe esserci problemi di trovare o non trovare posto C'è parecchio che è già costruito Non conosco tantissimo bene il server ma ci ho fatto un giretto e mi sembra carino Potete iniziare intanto a vedere un pochettino come la zona A vedere se ci sono delle zone interessanti in cui si potrà andare a costruire tutti insieme Altra cosa super 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 importante Mi piacerebbe che per coordinare l'evento potessimo utilizzare qualcosa tipo Discord Anzi direi proprio Discord Ho creato un server che si chiamano server ma in realtà su Discord è un pochettino diverso da TeamSpeak E tramite quel server si può entrare o in chat standard o in chat vocale Secondo me sarà comodo poi dopo se vogliamo comunicare all'interno della partita Una volta che ci saremmo trovati per coordinarci Ah io entro, io non entro, quali sono le tue coordinate eccetera eccetera Così non fluddiamo neanche la chat del server Per questo server Discord metterò il link in descrizione o in sovraimpressione se possibile Vedrò anche un po' delle magie dell'editing cosa riesco a combinare E niente, indicativamente settimana prossima Quindi io vi invito a rispondere al sondaggio prima possibile E iniziare a cercare il server Discord per inserirvi Vi ricordo comunque che per eventuali aggiornamenti C'è anche il canale Telegram che utilizzo abbastanza spesso La pagina Facebook se volete mandarvi dei messaggi Ma non credo che scriverò degli aggiornamenti più di tanto là sulla pagina Facebook E piccola parentesi su Discord C'è il client installabile per Android, iOS, Mac e Windows se non sbaglio Per tutto il resto c'è comunque anche su web, su browser Quindi per esempio per Linux funziona benissimo su browser Io per esempio l'ho usato finora su browser nella mia partizione Ubuntu E quindi non dovreste avere problemi Perché anche da smartphone potete tranquillamente usarlo O da browser insomma un po' con tutto quello che potreste avere sul vostro computer Detto questo io vi auguro una buona giornata Spero che l'iniziativa del multiplayer possa interessarvi Spero che possa venire una bella cosa Magari registrerò anche qualcosa di quando giocheremo insieme Per poter fare magari degli episodi così saltuari con qualche spezzone Per far vedere chi per caso non c'era, cosa abbiamo combinato E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti, buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti